Molto commossa per le frasi, l'ultima frase che ha letto sul nostro re e penso che la dignità è una cosa che dobbiamo tutti contenere. Grazie a tutti. Viva! Viva re! Viva! Viva re! Ci avviciniamo quindi per... Giù sì! Davanti, davanti! Viva! Viva! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.